Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto Il sogno di Carlo e il grande legame con i cavalli dell'episodio numero 6 Una triste decisione. Buon ascolto. Dopo numerosi tentativi di Carlo per aiutare il suo cavallo Sparchi ad avere fiducia in lui il ragazzo rendendosi conto che ogni suo sforzo risultava vano prese una triste decisione. Angosciato Carlo si diresse con Sparchi da suo nonno per restituirglielo. Arrivato al maneggio del nonno Stefano Carlo disse a suo nonno Ho apprezzato molto il tuo regalo nonno. Con Sparchi ho vissuto dei momenti felici. Tuttavia ultimamente Sparchi non mi dà ascolto. È cambiato. Non ho idea cosa gli fosse successo. Il nonno Stefano capì che suo nipote aveva stancato il cavallo, obbligandolo a correre per vincere i concorsi. Perciò gli rispose Carlo non nascondermi la verità. Perché hai alluinato duramente Sparchi? Nessun cavallo può fare sforzi eccessivi. Vincere non rende un cavaliere migliore. È l'affetto tra cavallo e persona che rende un cavaliere speciale. Non disperarti Carlo. Insieme possiamo rimediare al tuo errore. Carlo, nonostante volesse provare a rimediare, decise di lasciare Sparchi da suo nonno per evitare ulteriormente di danneggiarlo. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao. Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto Il sogno di Carlo e il grande legame con i cavalli dell'episodio numero 7 Un regalo inaspettato. Buon ascolto. Il giorno successivo, dal triste addio a Sparchi, verso pomeriggio Carlo, gli civette un regalo dai suoi amici che lo rese molto felice. Si trattava di un cavallo nero vinto alla lotteria da Samuele. Carlo, ringraziando i suoi amici, Samuele e Gilbert, per il regalo, promise loro che ne avrebbe avuto cura, Trascorrendo, insieme a Derex, il nuovo cavallo, una splendida giornata. Sfortunatamente, però, al maneggio del nonno, le cose non stavano andando bene. Sparchi, il vecchio cavallo di Carlo mangiava poco ed era diventato pigro, preoccupando seriamente il nonno per la salute del cavallo. fu così che egli prese la decisione di farlo visitare da un veterinario. Questo è il disegno. Bene, ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao. Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, Il sogno di Carlo e il grande legame con i cavalli, dell'episodio numero 8 Il concorso della Fenice Buon ascolto Passata una settimana, da quando gli amici di Carlo avevano regalato al loro amico un cavallo, tra il ragazzo e il cavallo Derex, si formò un grande legame che lo rese molto fiero. Fu così che il ragazzo, partecipando a diversi concorsi, vinse numerose medaglie, riuscendo persino a raggiungere il primo posto alla gara delle Fenice. Tuttavia Derex iniziava ad affaticarsi delle continue gare di Carlo. Perciò, sebbene non volesse deludere, il ragazzo tentò in ogni modo di far comprendere a Carlo di non allenarlo eccessivamente, poiché poteva danneggiare la sua salute. Carlo, comprendendo che ogni cavallo merita dei momenti di riposo, diede ascolto ai suoi genitori, i quali gli avevano raccomandato, come suo nonno, di rispettare ogni cavallo, accettando i suoi limiti. Questo è il disegno. Bene, ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao. 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 Grazie.